Musica Domenica 6 ottobre, cari telespettatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento con TVI 7. La nostra finestra su alcune delle notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Alcune delle notizie più importanti, più rilevanti naturalmente. Iniziamo con il lotto zero di Sernia, sopralluogo della forestale sul cantiere. Intanto la ditta appaltatrice chiede una nuova valutazione di impatto ambientale e sospende i lavori in attesa della sentenza decisiva, neanche a dirlo, del Consiglio di Stato. Lotto zero, sopralluogo della forestale sul cantiere dopo le segnalazioni relative alla conformità del tracciato. E intanto la ditta appaltatrice sospende i lavori in attesa del parere del Consiglio di Stato. Insieme agli agenti del corpo forestale, sul cantiere era presente anche l'ingegner Mariano Nucci del comitato no lotto zero, che da tempo solleva dubbi sulla corrispondenza dell'attuale tracciato a quello previsto dal progetto. Sono venuti due dalla guardia forestale, quattro funzionari dell'ANAS, presenti gli operatori che stavano operando sul cantiere e soprattutto erano presenti anche in rappresentanza i tecnici e le ditte operatrici. È atteso a giorni il verbale dell'accertamento. Io mi aspetto, diciamo, di questo, che la forestale, diciamo, ecco, dica una parola sui tracciati che sono stati sbagliati e che, diciamo, ecco, le ditte rispondano di questi errori commessi da chi non lo so. Intanto la ditta Via Nini S.p.A., che si è aggiudicata all'appalto per la realizzazione dell'opera, ha deciso di sospendere i lavori già avviati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato prevista per il 29 ottobre. Sulla vicenda era stato presentato dal fronte del NO, dal WWF e dal Comune di Sernia, un ricorso al Tar Molise, che aveva accolto l'istanza, incentrata sulla proroga della via, valutazione di impatto ambientale che risultava scaduta. Di conseguenza era scattato lo stop all'avanzamento dei lavori, ma il Consiglio di Stato, interpellato da Regione Molise, ARPA e ANAS, in attesa del verdetto di fine ottobre, aveva sospeso la sentenza del Tar, consentendo la riapertura del cantiere. Ora la ditta, che nel frattempo ha richiesto alla Regione una nuova valutazione di impatto ambientale, ha deciso di fermarsi fino alla sentenza del massimo giudice amministrativo. Se quest'ultima accoglierà le istanze dell'ANAS e dell'ARPA, i lavori ripartiranno subito. Se il giudizio sarà conforme ai rilievi di Comitato, WWF e Comune di Sernia, si dovrà attendere la conclusione dell'iter per la nuova via. E ancora, a proposito di stop, in questo caso auspicati il progetto Pizzone 2, promosso da Enel per la realizzazione di una centrale di produzione e di pompaggio, è stato bocciato da parte dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Una bocciatura, quanto pare, senza appelli. Il progetto Pizzone 2, promosso dall'Enel per la realizzazione di una centrale di produzione e pompaggio, è stato oggetto di una bocciatura senza appello da parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il PNALM, responsabile della tutela dell'ambiente, della fauna e della flora dell'area, ha sollevato una serie di gravi obiezioni riguardanti l'impatto ambientale e la conformità del progetto con le normative vigenti, scrive infatti il presidente Giovanni Cannata. Il progetto dell'Enel comporterà inevitabilmente impatti irreversibili sulla biodiversità e sull'immagine del nostro Paese a livello internazionale, dal punto di vista della tutela della biodiversità. Il parere non può che essere fortemente negativo. La realizzazione di quest'opera arreccherebbe un danno ambientale grave in una delle ultime roccaforti della biodiversità italiana. In conclusione, ponendo l'accento sullo status di conservazione di importanza territoriale e comunitaria della specie potenzialmente impattante, sono categoricamente da escludere, dice Cannata, gli interventi contemplati nel progetto Pizzone 2. Tali interventi, oltre a rappresentare una fonte di disturbo diretto per le specie, andrebbero ad agire su tutte le componenti del sistema, influenzando le dinamiche e la persistenza a lungo termine di flora e fauna. Pertanto, il parere del parco è negativo. Soddisfatto il coordinamento No Pizzone 2, che dice il progetto non ha futuro e il Ministero dell'Ambiente è tenuto a bocciarlo se non vuole incorrere in ulteriori e palesi violazioni delle norme della tutela dell'ambiente. Ed ora la giudiziaria. Tre persone rinviate a giudizio dal GUP di Sulmona per la morte di Antonio Di Lollo. Lo scorso anno il tinteggiatore di Montaquila, 46enne, rimase folgorato su un cantiere nel territorio di Casteldisangro. Tre rinvie a giudizio per la morte di Antonio Di Lollo, 46enne di Montaquila, deceduto sul posto di lavoro il 31 agosto 2023 nel territorio di Casteldisangro. Di Lollo, titolare di un'impresa di tinteggiatura, si trovava presso un capannone di un'azienda di confetture situata lungo la Statale 17 quando si verificò l'incidente che gli costò la vita. Secondo le prime ricostruzioni, era salito sul cestello elevatore per effettuare alcune prove prima di iniziare a imbiancare la facciata dell'edificio quando urtò i cavi dell'Enel rimanendo folgorato. Gli interventi di soccorso risultarono purtroppo vani per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. All'epoca intervenne il dipartimento competente della ASL 1 unitamente ai carabinieri che avviarono le indagini e raccolsero le testimonianze dei presenti. Il gruppo Alessandra De Marco del Tribunale di Sulmona ha accolto la richiesta del PM Edoardo Mariotti che ha chiesto il processo per il proprietario del cantiere, nonché amministratore delegato della società di confetture e per due tecnici legati al noleggio del cestello elevatore. L'ipotesi al vaglio dei magistrati è quella dell'omicidio colposo. Secondo quanto contestato dal sostituto procuratore, il proprietario del cantiere non avrebbe verificato l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore e non avrebbe predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti, mentre i due tecnici non avrebbero verificato l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore e se lo stesso fosse o meno in possesso dell'abilitazione per l'uso del macchinario. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il 22 maggio. Secondo tentativo di furto in sole 24 ore in un autosalone di Isernia. Ladri inseguiti dalla polizia escono fuoristrada, bloccati e arrestati uno di loro ora e caccia i quattro complici. A distanza di meno di 24 ore la concessionaria di Isernia in cui la notte tra domenica e lunedì alcuni malviventi avevano tentato di rubare due maserati è tornata di nuovo nel mirino dei ladri la notte appena trascorsa. Cinque malviventi hanno provato ancora una volta a sottrarre una delle due vetture di lusso rimasta nel piazzale. Anche questa volta tentativo di furto fallito, ma l'epilogo è stato diverso con un inseguimento da parte della polizia, un incidente e il conseguente arresto di uno dei cinque ladri. Come la notte precedente, i ladri intorno alle tre del mattino hanno scavalcato il cancello della concessionaria, puntando di nuovo alla Maserati dal valore di circa 100.000 euro. Stavolta però l'altra vettura era stata portata al sicuro all'interno dell'autosalone. I malviventi hanno iniziato ad armeggiare vicino alla macchina rimasta nel piazzale, cercando di forzare la serratura. Il titolare, allertato dall'allarme, ha immediatamente controllato le immagini sul cellulare, vedendo gli intrusi all'opera. La chiamata alla polizia è stata immediata e in pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti. A quel punto i ladri sono risaliti velocemente sulla loro auto e hanno tentato la fuga a tutta velocità. E la corsa della 500X su cui viaggiavano i ladri si è conclusa qui, nei pressi del comando provinciale dei Carabinieri, dove l'auto è rimasta coinvolta in un incidente. Uno dei malviventi è rimasto ferito ed è stato subito bloccato dagli agenti della polizia e nelle ore successive è stato arrestato. Si tratta di un giovane campano di circa 30 anni. Gli altri quattro complici invece sono riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere le tracce nelle campagne di località Le Piane. Al momento le ricerche sono ancora in corso, così come le indagini che dovranno accertare se dietro i due tentativi di furto ci siano gli stessi responsabili. E nei giorni scorsi c'è stato il primo giorno di lavoro per il neoprefetto di Isernia, Giuseppe Montella. A breve inizierò il tour per conoscere tutte le realtà, tutti i comuni della provincia, ha dichiarato ai nostri microfoni. Originario della campagna ma vive a Cremona, primo giorno di lavoro per il nuovo prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, prima di Isernia, ha ricoperto l'incarico di prefetto Allodi e poi è stato vice commissario per il governo a Trieste. A breve comincerà il suo tour per visitare tutti i comuni della provincia e per incontrare tutti i sindaci. Ma ascoltiamolo in questa intervista. Il prefetto ha questa funzione di ascolto, di mediazione, che è una funzione molto importante perché spesso mettere attorno a un tavolo i vari attori per delle problematiche consente di trovare delle soluzioni. Io ho fatto esperienze lavorative al nord, anche se sono meridionale perché sono campano di origine, però ho vissuto gran parte della mia vita al nord e lì ho lavorato. Per cui per me è molto stimolante intraprendere questa esperienza lavorativa qui al centro sud, in questa zona. Ecco, eccellenza, ancora non conosce appieno le problematiche di questa provincia perché è da poco, però ha già detto che comunque ha trovato un gruppo molto coeso e collaborativo, soprattutto nei rappresentanti delle forze dell'ordine. Sì, oggi è stato il mio primo giorno e quindi ho avuto la possibilità di conoscere e avere incontri con i rappresentanti delle tre forze dell'ordine. E ho visto un bel clima, un clima di squadra e quindi sono convinto che questa sia la carta vincente per fare bene. Ringrazio anche il mio predecessore, che so che ha lavorato molto bene in questa provincia, per cui il ringraziamento è anche al mio predecessore, al prefetto Tancredi. Sanità, nello specifico strutture sanitarie, inaugurata al Cardarelli di Campobasso, una nuova unità operativa all'interno del Dipartimento dell'Emergenza che si chiama Recovery Room. Direttore della struttura, il dottor Vincenzo Cuzzone. Inaugurata all'ospedale Cardarelli la Recovery Room nell'ambito del Dipartimento Trasmurale Strutturale d'Emergenza, una struttura importante diretta dal dottor Vincenzo Cuzzone. Un fiore all'occello, perché non tutte le strutture ospedaliere anche ancorché di secondo livello, quindi DEA di secondo livello, la hanno, ma noi oltre questo abbiamo spinto tantissimo perché oltre la Recovery Room oramai siamo in H24 per quanto riguarda la partoanalgesia e ancora di più con questo stesso team stiamo mettendo su un PIC Team che diventa importante perché la possibilità di accessi venosi non solo in ospedale ma anche sul territorio diventeranno una condizione sine qua non per quella famosa integrazione ospedale-territorio che può essere e dovrà essere il nostro fiore all'occhiello. Un ospedale di qualunque posto del mondo il blocco operatorio è il volano, è un volano di un motore che lavora in sinergia insieme ad altri servizi e ad altre specialità. Nel blocco operatorio c'è l'attività principale, le operazioni chirurgiche, la maggior parte dei DRG che noi produciamo per l'azienda ed è la parte più delicata, è la parte che ha un impatto enorme sia sulla sicurezza delle cure che noi offriamo ai nostri pazienti sia in termini economici perché tutto ciò che viene fatto bene è un bellissimo risultato che si porta a casa con dei buoni risultati in termini di salute ed economici tutto ciò che non va bene ha delle ripercussioni negative sia in termini quindi di cure che noi forniamo che anche economiche. Perché basti pensare che un posto di terapia intensiva se noi abbiamo esigenza di ricoverare un paziente va a seconda che si tratti di basse o alte intensità di cure da 1.500 a 3.000 euro al giorno per paziente quindi capite bene come lavorare bene cercare di evitare di andare incontro a delle complicanze che possono avere conseguenze importanti sia anche un risultato non solo come termini di salute e di sicurezza per i pazienti ma anche economici. E sempre in quel nosocomio dopo anni di chiusura è stata riattivata la mensa ASREM presso il Cardarelli il servizio era stato interrotto pensate durante l'emergenza Covid Dopo anni di chiusura finalmente riapre la mensa dell'ospedale Cardarelli di Campobasso il servizio interrotto durante la pandemia torna fruibile ai dipendenti ASREM ai familiari dei degenti e agli studenti dell'Università dei Studi del Molise la riapertura è stata ufficiata dal direttore generale ASREM Giovanni Di Santo che ha espresso grande soddisfazione Riapriamo questa mensa che ha lo scopo ovviamente non solo di essere come dire un momento per poter consultarsi ecco un momento anche di aggregazione oltre ovviamente a poter far mangiare i nostri dipendenti piuttosto che i familiari dei degenti piuttosto che i ragazzi dell'Università insomma una convenzione anche allargata se così possiamo dire ma che diventa importante anche perché come spesso sappiamo a tavola si può discutere meglio quindi può essere anche un meccanismo di organizzazione per gli stessi specialisti che verranno qui e potranno discutere perché no anche di casi clinici quindi è un momento di aggregazione è un momento di discussione è un momento di nutrizione ecco questo forse diventa importante anche perché dopo tanto tempo ovviamente abbiamo la possibilità di dar pasti a tutti i numeri sono relativi ovviamente a quello che può essere come dire l'appil della menza stessa io penso che i numeri saranno sicuramente elevati ecco in termini proprio specifici li possiamo quantizzare solo ex post e non ex ante ovviamente però noi doteremo anche questa menza proprio per migliorare il comfort stesso anche di un monitor che ogni giorno darà il menu della giornata grazie al fiume Volturno abbiamo superato indenni la criticità legata alla carenza idrica che colpisce molti territori del Molise così il presidente del consorzio di bonifica della piana di Venafro Raffaele Cotugno carenza d'acqua per uso potabile e per tra virgolette dissetare le colture il problema affligge tanti territori del Molise in alcune aree della provincia di Campobasso sta diventando un'emergenza in controtendenza la situazione del consorzio di bonifica della piana di Venafro lì 5.000 agricoltori consorziati possono tirare un sospiro di sollievo grazie al fiume Volturno spiega ai nostri microfoni il presidente Raffaele Cotugno grazie al Volturno quest'anno non abbiamo avuto i problemi anche se è stata un'estate molto molto siccitosa rispetto ad altre regioni che stanno proprio in condizioni drastiche faccio l'esempio della Sicilia che è rimasta proprio senza acqua noi è manna dal cielo dobbiamo ringraziare il bacino delle mainarde il nostro impianto anche quest'anno nonostante è una delle estati più calde ha tenuto bene la manutenzione è stata vigile non abbiamo avuto grossi problemi piccole interruzioni ma più che altro tecniche ma non dovute a mancanza d'acqua e dato che l'acqua c'è Cotugno venendo incontro alle richieste dei consorziati sta lavorando con la regione al prolungamento della concessione di utilizzo per l'intero anno e non già come avviene ora da maggio a settembre sulla piana di Venafro si sta cominciando a praticare un po' di ortaggi si sta diversificando ci sono degli amici che hanno cominciato a piantare pomodori qualcuno vuole con diciamo colture che possono essere primaverili precoci e allora ci sono queste richieste stiamo lavorando per dare l'acqua a questo servizio tutto l'anno questa estensione non darebbe luogo a nessuno spreco tiene a rimarcare Cotugno non scaricheremmo l'acqua inutilizzata bensì caricheremo le vasche per aprire le condotte all'occorrenza ed ora vi riproponiamo le belle immagini dei piccoli alunni della scuola Giovanni XXIII di Isernia che hanno festeggiato con i loro cari la festa dei nonni tante le nuove sfide ma il segreto l'ingrediente principale di questa festa resta sempre uno l'amore una giornata dedicata all'oro per ricompensarle almeno in parte dell'affetto e l'impegno con cui quotidianamente ricoprono i loro cari i nonni e i giorni d'oggi sono sempre più il pilastro delle famiglie lavoro di cura sostegno economico e ovviamente amore incondizionato verso i nipoti stamane a Isernia i bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII si muogliano accolti a suon di balli canzoni e ovviamente baci e abbracci con i nonni seduti al centro della palestra e i piccoli che per una volta si sono calati nei loro panni consegnando loro la merenda quella di un tempo genuina e sana fatta di pane, burro e marmellata ma al di là della merenda per i nonni il dono più grande sono stati quei sorrisi impagabili capaci di dare un senso alle loro vite vuoi bene ai tuoi nonni? come si chiamano i tuoi nonni? nonno coca e donna sissi e ci passi tanto tempo insieme? sì oggi è la festa dei nonni vuoi bene i tuoi nonni? i nonni oggi sono chiamati a sfide nuove che li impegnano in modo costante vietato però parlare di sacrifici si tratta semplicemente di amore siamo di supporto ai genitori e stiamo sempre vicini ai nostri nipoti perché oltre ad essere genitori siamo nonni ma in realtà la festa dei nonni dovrebbe essere tutti i giorni per quello che fanno per le proprie famiglie è una festa effettivamente tutti i giorni poi averli così tutti insieme è veramente ragione questa volta invece è stata la sua nipote che ha portato la merenda a lei e viene restituito il portare la merenda per una volta sul ruolo fondamentale dei nonni si è soffermato anche Bruno Caccioppoli il dirigente scolastico che ha voluto fortemente questa iniziativa che loro sono detentori di saperi importanti pensate alle ricette che trasmettono alle figlie pensate alla maniera in cui si coltiva la terra insomma sono dei detentori della tradizione ma al di là di qualsiasi analisi per spiegare il ruolo che hanno i nonni basta il più semplice e significativo gesto nell'abbazia di San Vincenzo a Volturno un laboratorio sull'antica arte del vetro soffiato riprende le tecniche più che millenarie utilizzate dai monaci medievali nell'abbazia di San Vincenzo a Volturno a distanza di mille anni e più si tornano a produrre manufatti in vetro così come facevano i monaci benedettini medievali Il recupero dell'antica tecnica grazie ad un laboratorio che avvicina gli allievi ai rudimenti di quella che è l'arte del vetro soffiato Io uso il vetro riciclato quindi sciolgo le bottiglie le prelevo dalla fornace con una canna d'acciaio e poi posso soffiarla o lavorarla a mano con la pinza e dargli qualsiasi forma perché il vetro è un materiale in forma che prende qualsiasi forma noi vogliamo Quanto è difficile imparare a lavorare il vetro? Noi adesso stiamo facendo un corso base quindi l'obiettivo è quello di acquisire una manualità di comprendere come utilizzare gli strumenti e arrivare a creare delle forme che sono comunque abbastanza semplici in generale credo che la lavorazione del vetro sia una vera e propria arte Valorizzazione del territorio e promozione della sostenibilità ambientale nel processo si utilizzano oggetti di vetro dismesso gli altri obiettivi di Epifanius l'associazione culturale cui si deve l'iniziativa Gli obiettivi sono molteplici innanzitutto creare questo collegamento con la storia del territorio il secondo obiettivo è quello di creare un collegamento una rete tra tutti i comuni quindi abbiamo voluto coinvolgere gli allievi di tutti quanti i comuni dell'Alta Valle del Volturno e la terza opportunità che ci diamo è quella di creare uno sviluppo economico però con il rispetto del territorio di quelle che sono le valenze e le caratteristiche del territorio Una finalità quest'ultima che l'associazione Epifanius intende portare avanti mediante ulteriori progetti tra artigianato e arte intanto l'inizio con il vetro è davvero col botto o meglio col soffio E con il vetro soffiato è proprio tutto TVI7 torna puntuale domenica prossima mi raccomando non mancate vi aspetto E con il vetro soffio